buona lì eccoci sul bivacco vigolana siamo sulla vigolana proprio poco sopra trento laggiù in fondo lì davanti c'è la marzola marzola ecco il fantomatico bivacco in fondo il becco di filadonna e da qui tutto il sentiero che ci ha portato a questo favoloso bivacco ecco il sole le sette entriamo una bella lamiera abbiamo un bel tavolone il caffè così pronto abbiamo tre bei lettoni a destra tre lettoni a sinistra guarda lì che bello struttura stifle proprio tutto legno e dopo una bella stufa per l'inverno abbiamo letto che sul diario del posto c'è gente che viene anche d'inverno è venuta natale è venuta capodanno di sicuro con rampone piccozze ma congratulazioni a costoro e lì un po di cibarie c'è anche la moca come sempre ragazzi venite venite a un gran bel posto grazie 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 grazie